Nella ventinovesima giornata del campionato interregionale Girone G, l'Avellino riesce ad imporsi sul Monterosi con una rimonta costruita a cavallo dei due tempi regolamentari di gioco. Esordio in panchina per mister Daniele Cinelli alla sua prima da capo allenatore, ruolo che ricoprirà anche domenica a Castiadas in virtù delle due giornate di squalifica combinate a Giovanni Bucaro. Cinelli che a fine partita ha dichiarato di aver coronato il sogno della sua vita, ovvero quello di sedere anche solo per una giornata sulla panchina dell'Avellino. Gara importantissima quella contro il Monterosi, scontro diretto a tutti gli effetti per non perdere contatto dalla vetta e per mettere a distanza un avversario coriaceo nella sfida faccia a faccia. I biancoverdi partono subito forte, rendendosi pericolosi con Di Paolo Antonio e Devena, ma sono gli ospiti a sbloccare il risultato grazie ad un gol di Proia alla mezz'ora. Il calciatore del Monterosi sfrutta una sponda di Nouman dopo una punizione. Come spesso accade in questi casi, gli spettri del passato ritornano a farsi vivi tra i tifosi, ma non nei giocatori biancoverdi, artefici di più di una rimonta in questo campionato. Così la squadra non si abbatte, la reazione dei Lupi non si fa attendere ed è Mentana, al suo primo gol stagionale, a rimettere la partita sul risultato di parità. Nel secondo tempo il numero 9 degli Irpini inverte la sua posizione in campo con Luiz Maria Alfageme. L'accorgimento tattico si rivela fondamentale ed azzeccato, visto che proprio Alfageme è l'esto a depositare in rete dopo appena 4 minuti della ripresa. Per l'ex casertana è il primo gol con Lavellino che, sbloccando subito ad inizio secondo tempo, riesce a mettere in discesa una partita che poteva rivelarsi assai insidiosa. Lavellino nel primo tempo ha creato molto portandosi davanti al portiere ospite in almeno 4-5 occasioni. Nella ripresa, una volta acquisito il risultato, è stato quasi fisiologico abbassare un po' il baricentro, anche se bisogna dire che la sensazione è stata netta. I Lupi hanno saputo gestire il vantaggio contro una squadra comunque molto ben attrezzata. La rincorsa prosegue dunque con la capolista che però non accenna a frenare, rendendo tutto molto più complicato in termini di rimonta. La squadra riprenderà gli allenamenti domani e sabato partirà alla volta di Cagliari per poi affrontare il giorno successivo. La sfida con il Castiadas squadra alla ricerca di punti salvezza contro cui non sarà certamente una passeggiata a giocare.